Adesso invece ci occupiamo di un'altra tematica sempre molto dibattuta in queste ore, quella del caro Prezzi, del caro Energia, per questo motivo hanno manifestato nelle piazze di Firenze e Grosseto gli agricoltori toscani, lo stesso faranno prossimamente anche altri imprenditori perché sono sempre di più le aziende a rischio con i rincari, tra loro c'è pure la magona di Piombino che vede il proprio bilancio fortemente a rischio a causa dei rincari dell'ultimo periodo ai servizi. Noi non vogliamo né far mettere in difficoltà i nostri animali, non vogliamo chiudere le stalle perché non riaprirebbero più, vogliamo continuare a produrre perché è un bene di prima necessità. Costi di produzione, aumento delle materie prime, caro bollette, sono tante le motivazioni che hanno spinto a scendere in piazza la Col di Retti a Firenze, ma non solo. Quasi un contadino su tre è costretto a tagliare i raccolti a causa dell'aumento dei prezzi, i rincari stanno avendo un impatto pesante sull'intera filiera alimentare a partire dalla produzione, il rischio è che si debba ricorrere sempre più all'estero. Un caro energetico va intorno al 70%, concimi 140%, mangimi 40%, mi capite? E i prodotti vengono pagati come prima, quindi le aziende sono in affanno, non c'è più liquidità. Un'altra difficoltà che le aziende agricole stanno incontrando riguarda i costi di produzione. Le attività faticano a coprirli, in media per ogni euro speso rientrano appena 15 centesimi, manifestando davanti la prefettura di Firenze. Gli agricoltori hanno protestato contro questo paradosso, anche alla luce del fatto che loro non si sono fermati nemmeno nelle fasi più acute della pandemia. Noi abbiamo avuto questo grande, grosso rincaro, ma il nostro prodotto è sempre agli stessi prezzi. Una settimana, due settimane, un mese, due mesi riusciamo a sostenerlo. Siamo a dei livelli che ora non riusciamo più a sostenerlo. E gli animali, come ben sapete, ogni giorno giustamente hanno bisogno di essere alimentati.